Salve a tutti ragazzi, questa mattina spiegheremo con questa micro spiegazione, lezione, il calcolo stessaccesimale nella divisione. Ecco, può succedere di dover dividere un angolo, in questo caso 17 gradi 12 primi 7 secondi, in tre parti uguali. Come per la moltiplicazione, il problema si pone perché non progrediscono in maniera decimale, ma per sessantesimi. Allora andiamo a farlo. All'inizio si fa una divisione normale, vale a dire il 3 nel 17 sta 5 volte, 5 volte che fa 15 e ho un resto di 2 gradi. Però a questo punto non posso più fare 3 diviso 2 perché è più piccolo, ma per portarmi il resto nella colonna dei primi non devo fare altro che moltiplicarlo per 60 per far venire fuori i primi. Questa volta al contrario del gradino della scala della divisione, come si era fatto prima. Allora, insomma qui con i gradi, per andare verso i primi devo moltiplicare 60 e per andare verso i secondi ancora. Allora, 2 gradi fa 120 primi che andrò a mettere qui sotto e come somma nella zona dei primi avrò 132 primi. A questo punto procedo con la divisione. 3 nel 13 sta 4 volte con l'avanzo di 1, il 3 nel 12 altre 4 volte, questa volta con un resto di 0. Quindi sono 44 primi. Qui non moltiplico nulla per 60 perché il resto è 0, vado a fare la divisione con i secondi. Bene. Allora, il 3 nel 7 sta 2 volte, 2 secondi e 2 per 3, 6 e resta 1. Questo 1 è un resto puro e lo lascio così. Quindi, il risultato finale di 17 gradi, 12 primi, 7 secondi diviso 3 è 5 gradi, 44 primi, 2 secondi. Importante vedere e ricordare questo passaggio. E' rimasto... C'è stato un resto di 2 gradi? Lo moltiplico per 60 e questi 120 sono diventati primi che sommo ai primi dell'angolo di partenza. E quindi la divisione va fatta questa volta su 132. Qui non è rimasto niente, quindi non moltiplico per niente. Se fosse rimasto qualcosa avrei dovuto moltiplicare per 60 e sommarlo al dato dei secondi della divisione. Perché? Per passare dai gradi ai primi, dai primi ai secondi, ho moltiplicato per 60 e per 60. Buona visione, attenzione ai passaggi e riprovate a fare la stessa identica divisione dopo che avete visto il video. E fare qualche altro esercizio per consolidare la competenza. Buona visione. E... Provate, provate, provate.